Si erge per 27 metri, una vertigine, solo a pensarci, che fa guadagnare il titolo di albero più alto delle Marche a questo esemplare di ginkgo biloba. È una delle mille più specie che si trovano nell'orto botanico di Camerino. Ci sono piante curative che la tradizione della montagna ben conosce, ma anche specie da tutto il mondo, alcune conservate in serra. Si può osservare da vicino la pianta del tè, quella della curcuma, la papaya, le bacche del caffè. Tutto in questo ettaro di verde dove ha trovato casa anche uno spin-off dell'Università di Camerino di marketing sensoriale con la creazione di profumi ed essenze. Girando in questo angolo di verde si riconoscono i profumi accostando al naso fiori e foglie. Come nasce l'orto botanico qui a Camerino? Nasce nel 1826 ad opera di un docente dell'Università di Camerino che chiese alla città uno spazio per mettere a dimora una serie di piante. E per far conoscere soprattutto le piante presenti nel territorio circostante. Il professore era molto interessato al fatto che gli studenti conoscessero bene le piante del circondario perché, come era tradizione, le piante venivano utilizzate per curarsi. E quindi conoscerle, saperle riconoscere, voleva dire anche saper riconoscere quello che le persone avevano utilizzato per curarsi. E poi piano piano si è arricchito da piante che sono arrivate per scambio o traportate da vari docenti e studiosi dell'Università. Quale tipo di lezione o messaggio si vuole trasmettere anche alle persone che vengono a visitare l'orto, ma anche alle scolaresche che vengono qui? Si parla di sostenibilità ambientale, si parla di peso che praticamente il pianeta è costretto a sopportare con consumi eccessivi di acqua, sfruttamento eccessivo del territorio, perché siamo orientati a consumare soltanto certi tipi di beni e pretendiamo che alcune aree del pianeta ci forniscano in grande quantità una serie di materiali che consumiamo quotidianamente, ad esempio, sulla nostra tavola. Si parla del caffè, si parla del cacao, delle banane. Dopo il sisma del 2016 l'orto e i suoi lavoratori non si sono persi d'animo, nonostante sia ancora chiusa quella via di accesso alla città sul piano della piazza Cavour con i suoi 106 scalini. E si organizzano piccoli eventi musicali, degustazioni, incontri e laboratori, come quelli in corso ogni mercoledì, sulla cura delle piante. Ma com'è cambiata la situazione dopo le scosse di quasi tre anni fa? I visitatori che vengono a Camerino un giro all'orto se lo fanno sempre volentieri. Abbiamo un minor numero di scuole presenti presso l'orto, perché un po' spaventate dalla situazione, un po' preoccupate. E come si guarda al futuro e quindi anche alle progettualità per ripartire davvero? Allora, per ripartire davvero abbiamo una serie di progetti. Se vanno in porto già da ottobre dovremmo avere delle belle novità proprio per le scuole.